Mi sto trovando sempre meglio, sia con la città sia con la realtà della Virtus. Cerco come sempre di farmi trovare pronto quando il mister pensa che posso dare il mio contributo in campo. Cerco di avere gli atteggiamenti giusti. Anche domenica ho cercato di mettere le mie qualità in campo a servizio della squadra per cercare di dare una mano alla causa. Come ho detto, purtroppo è venuta la sconfitta, ma sono sicuro che continuando a lavorare come stiamo facendo riusciremo a portare a casa dei punti e a continuare a fare delle buone prestazioni. Sono un attaccante d'utile, quindi dove c'è bisogno posso mettere le mie caratteristiche. In quella zona di campo ed esterno mi trovo bene, anche perché riesco a giocare meno spalle alla porta o più campo per correre, per puntare l'uomo e magari far uscire quelle che possono essere le mie qualità. Abbiamo uno spogliatoio che secondo me è una grande percentuale della nostra forza perché ci sono tutti, comunque sia bravi ragazzi, vecchi, aiutano noi giovani che pian piano ci stiamo sempre più integrando nel gruppo. E diciamo che è stata una settimana dove secondo me ci siamo allenati molto bene e arriveremo sicuramente pronti per questa partita. Io faccio sempre ciò che è il mio massimo per guadagnarmi una maglia, ma se il mister riterrà che non è ancora opportuno e che io possa giocare dall'inizio cercherò di fargli cambiare idea, diciamo, allenandomi bene, però diciamo che spero sempre di giocare.